Consorzio Porto Franco, pioniere degli outlet in Italia, dal 1987 opera in Val Fontana Buona, nel settore dell'abbigliamento ed accessori griffati per uomo, donna e bambino. Si sviluppa su 2.500 metri quadri, su tre livelli ed è dotato di ampio parcheggio. Nell'ottobre 2011 Porto Franco è stato premiato allo SMAU, Fiera di Milano City, come innovatore tecnologico nel marketing e vendite, settore e-commerce e social networking con un prestigioso riconoscimento ICT. Al piano strada si trova tutto l'occorrente per la donna, un angolo caffè ed una saletta giochi per bimbi. Al primo piano si trova tutto per l'uomo e bambino. L'ultimo piano è dedicato allo sbarasso, dove tutto l'assortimento è scontato ulteriormente dal 50% del prezzo di costo. Consorzio Porto Franco, venite a trovarci in località Donega, Gattorna, Genova, dal mercoledì alla domenica, con orario continuato dalle 10.30 alle 19.30.